Gli incontri del salone con Giacomo, un caro amico. Ciao Giacomo, come stai? Bene, grazie, bene, bene. Che arrivi a respiri a questo salone? È bello, è sempre elettrizzante, è sempre un sacco di gente molto interessata, anche il mio incontro, quindi molto molto bene. Tu ultimo libro, un allegro sconcerto per la nave di Teseo. Che storie ci racconti? Sono una ventina di racconti di più, gli argomenti sono vari, sono molto divertito a misurarmi con la forma racconto, che è una forma molto difficile ma per me è molto stimolante, speriamo che il pubblico apprezzi. Noi ti salutiamo, così manteniamo tutte le promesse con i diversi viciosampi, l'unica cosa però lo sai, tutte le volte che facciamo un'intervista un augurio per i giovani che frequentano questo salone. Ciao ragazzi, leggete, leggete, leggete.